Assessore, nelle ultime ore c'è questa polemica tra centro-destra e centro-sinistra per quanto riguarda la gestione dei parklet, le scadenze, le proroghe, i rinnovi. Ci sono state delle accuse di confusione da parte del centro-sinistra, lei cosa risponde? Sono delle accuse che noi dispediamo al mittente. Per quanto riguarda il regolamento dei parklet voglio dire due cose. La prima è che il Comune di Pescara è stato uno dei primi comuni in tutta Italia ad adottare questo importante provvedimento per tutti coloro che non potevano beneficiare di uno spazio all'esterno. Quindi siamo stati molto innovativi. Seconda cosa, il regolamento sui parklet lo abbiamo approvato nel maggio del 2021 ed è valido ed efficace quel regolamento. Quel regolamento prevedeva una scadenza legato al 31 ottobre, un termine molto più ampio rispetto alla fine della situazione emergenziale che all'epoca era il 31 luglio del 2021. E quindi c'era questa scadenza al 31 luglio del 2021 che era stabilita nell'atto concessorio. Tutti coloro che hanno i parklet sono a conoscenza di questa scadenza e tant'è vero che i 15 proprietari di parklet, cioè coloro che hanno avuto questa concessione, hanno già provveduto a fare istanza al Comune per una proroga dei parklet. Credo che il dato all'altro ieri era che quasi tutti già avessero mandato la richiesta di rinnovo. Non l'ho verificato questa mattina. Il Comune di Pescara, che deve pensare a tutta la collettività, aveva semplicemente ipotizzato di far pagare il parcheggio che veniva occupato perché è un bene della collettività intera, ma a fronte della quantificazione da parte della nostra società partecipata, parliamo di pochissime centinaia di euro, la decisione del Sindaco, del Presidente del Consiglio, Marcello Antonelli, che voglio ringraziare per il lavoro svolto, è stato quello di non far pagare nemmeno per questi due mesi il parcheggio perché davvero parliamo di poche centinaia di euro.